La guerra in Ucraina sembra aver cambiato, probabilmente per sempre, le nostre vite, o meglio, il nostro modo di guardare alla nostra vita. Ce ne siamo accorti in questi giorni, ci siamo accorti che i discorsi che facevamo, che ci siamo sempre fatti, probabilmente non erano i discorsi giusti. Mi riferisco a quanto concerne un certo modo di considerare l'Europa, la democrazia, la pace e noi stessi. Oggi, o meglio ieri, è uscito il primo numero di un nuovo mensile, un mensile che però è scartaceo, sembra un quotidiano, ma è un mensile che si chiama Scenari. Questo è un dossier che nasce come una sorta di supplemento al giornale Domani, però si può comprare anche separatamente, io ho comprato separatamente. Ed è curato da Dario Fabbi. Dario Fabbi è uno dei più importanti, forse più in luce, tra gli articolisti di Limes, adesso ha un giornale suo. Nel quale, almeno in questo primo numero, è pieno zeppo di articoli suoi e anche di altri articolisti, ma esordisce con questo articolo che trovo veramente molto 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 interessante e quindi ve lo voglio leggere. Il titolo è Via le mani dagli occhi In Europa occidentale viviamo in una dimensione post-storica. Da decenni ci raccontiamo una meta-realtà. Sicuri sia l'economia a muovere la collettività, l'utilitarismo a determinare la traiettoria dei popoli. Segue gli interessi pecuniari, recita il principale adagio del nostro tempo. Quasi le comunità, composte solo e soltanto da esseri umani, fossero estranei all'agire di ognuno di noi, sovente autolesionistico, animato da puro sentimento o da bravo in potere, meno la torneconta materiale. Per cui l'invasione americana dall'Afghanistan sarebbe stata innescata dalle terre rare e quella dell'Iraq, va senza dire, pensata per accaparrarsi il petrolio. Medesima fallacia nel postulato opposto e speculare che vuole estinte le guerre guerreggiate, sostituite da quelle commerciali, le uniche davvero efficaci. Così ignorando scientemente che soltanto nel 2021 si sono combattute nel mondo oltre 30 guerre, tra nuove e già in corso. Qui segue il leggendario corollario, le multinazionali esistono sopra i governi, per poi scoprire che le principali aziende del pianeta versano miliardi di dollari in lobbying al congresso americano, l'istituzione più potente, per scongiurare azioni letali ai propri danni. Ancora, le nazioni sarebbero superate, diluite in architetture regionali o multilaterali, omettendo che negli ultimi 30 anni l'ONU ha accolto 34 nuovi membri, per tacere dell'indefinito numero di soggetti non riconosciuti. Oppure si racconta come è possibile la creazione di una nazione a tavolimo, quella europea su tutte, prodotta dalla convenienza di portare insieme, dall'esigenza di unire le forze per affrontare i marosi planetari. Porto circuito figlio della medesima ideologia astorica, ignara di come nei millenni le nazioni, tutte, siano nate attraverso la violenza, mai improvetta, nemmeno una volta. Di più, siamo persuasi che i popoli vivano tutti nello stesso materialismo, e dove tale sindrome non si rintraccia sarebbe solo questione di tempo, in una visione teleologica della traiettoria umana, raccontata come lineare, anziché riconosciuta nel suo dipanarsi contraddittorio, con fuga in avanti e all'indietro. Quindi nel 2022 la Russia aggredisce l'Ucraina. Deflagra una guerra priva di motivazioni economiche, non spiegabile attraverso il profitto di improbabili aziende, tantomeno con l'accumulo di risorse. La Russia, che ha originato Putin e non viceversa, intende soddisfare le sue principali ossessioni, ovvero l'ancestrale insicurezza e l'attitudine egemonica. Punto. Ben consapevole che tale offensiva le avrebbe procurato notevoli danni economici, che la volontà di sottomettere l'Ucraina ne avrebbe scaltito la rendita energetica. Innuce l'opposto della nostra vulgata. Perché i russi esistono in dimensione meramente storica, in pieno massimalismo. Vivono di status, di potenza grezza, del terrore in curso sugli altri, quando vi riescono. Come ogni impero del pianeta, dagli Stati Uniti alla Turchia, dalla Cina all'Iran, realtà che ci atterrisce, sconvolge. Eppure l'unica dimensione abitata dagli esseri umani, dall'alba dei tempi. Abbastanza per convincerci che la storia, benché miserabile e crudele, non è mai finita. Semplicemente ha continuato a perpetuarsi altrove. E ora lambisce il nostro ambito. Tanto vale guardare negli occhi. Dario Fabri. Allora, noi effettivamente, come dice anche Dario Fabri, che seguo ormai da anni, abbiamo preso questa strana abitudine, questa abitudine pericolosa, di pensare che ormai certe cose non ci tocchino più, che abbiamo costruito la pace, l'abbiamo costruita con la nostra testa, abbiamo praticamente, come dire, imboccato una via di inevoluzione che non avrà più fine. E ci siamo fatti, come dire, secondo me, intorpidire la mente da una lettura meramente marxista, in cui soltanto l'economia conta, e tutto il resto non ha nessuna importanza. Sorpresa, sorpresa, non è così. Non è vero. Come io leggo in molti commenti su Facebook, che conta soltanto l'economia, che le guerre si fanno solo per motivi economici, non è vero. In realtà è che l'economia è la sola cosa che noi capiamo, e quindi riconduciamo tutto all'unica cosa che capiamo, cioè i soldi. Ma in realtà, noi per primi poniamo in essere tantissime scelte che non sono motivate economicamente. Tantissime persone magari scegliono un posto di lavoro perché gli piace, anche se guadagnano meno. Ma consideriamo anche le tante imprese che falliscono molto spesso, avendo scelto di non seguire la strada economicamente più ragionevole. E così avviene in tutti i livelli. Quindi non è vero che i soldi, e solo i soldi, muovono le persone. Certo, c'è anche quella dimensione. Però noi abbiamo ridotto tutto a questo. Abbiamo veramente pensato di creare un mondo in cui questa valanga di soldi ci mettesse a sicuro da tutte le miserie. E non è così. E quindi scopriamo che bisogna riarmarci. Perché se no non contiamo niente. E se non contiamo niente siamo meno dell'Ucraina. Quindi al rischio di aggressioni. E questo non ci piace. Però siamo anche incapaci, anche solo di pensare alla guerra. Ma non è che la guerra ci risparmierà perché noi siamo incapaci di pensare ad essa. Questo è il problema. Dove voglio arrivare? Io sono convinto che questi anni, dal 2020 a oggi, chissà cosa ci aspetta per il futuro, siano stati anni molto duri naturalmente, ma anche anni molto costruttivi. La pandemia ci ha fatto capire quanto siamo fragili come esseri umani e quanto il contatto con le altre persone sia una cosa che veramente ci tiene in vita. Ci dà la forza di andare avanti. Quanto sia importante vedersi uscire, socializzare. Quanta importanza ha questa cosa. Abbiamo anche scoperto però che certi lavori si possono fare anche a casa con un buon rendimento. Ma a parte questo, adesso ci tocca scoprire, nel febbraio del 2022, l'anno in cui dovremmo uscire dalla pandemia, che appunto è una realtà ancora più grande, ancora più, come dire, più catastrofica. E cioè che noi non siamo fuori dalla storia. Non abbiamo risolto i problemi della storia. Non possiamo guardare indietro ai nostri ave che si facevano la guerra e riderne. Perché noi siamo dentro la storia. Appunto, come dice Fabio, noi siamo rimasti per un po' lontani dalla storia. Ma perché ci siamo, un po' ci siamo messi noi, un po' ci hanno messo così gli americani. Una serie di fattori, ma tutto sommato noi non abbiamo risolto niente. Abbiamo soltanto anestetizzato la situazione. Questo che vuol dire? Che dobbiamo diventare guerra fondai? Dobbiamo diventare come il colonnello Jessep di Codice d'Onore? No. Però io auspico in futuro, soprattutto anche per il nostro paese, occhi nuovi per vedere le cose, dare il giusto peso alle cose. C'è un mondo là fuori che combatte, che si muove, che è molto più importante di cosa ha detto quel politico oggi e che cosa pensa quell'altro politico ieri. Cosa che invece invade normalmente le pagine dei quotidiani quando non c'è una guerra, quando non c'è una pandemia. Secondo me questi anni ci hanno fatto anche capire che ci sono cose più importanti di noi stessi, della nostra politicuccia e anche probabilmente che la nostra politicuccia deve anche essa guardare a queste cose più importanti e non può tradursi tutto in un gioco di potere immediato per salire adesso nei sondaggi e chi lo sa che cosa succede domani. Se sapremmo metabolizzare in modo intelligente questi input che ci vengono da fuori, io credo che potremmo crescere tutti quanti insieme come paese, come nazione, come continente e forse anche come mondo. Naturalmente io vedo che ci sono tante persone che si lasciano travolgere dalla paura, dalla incapacità di comprendere tutto questo e reagiscono negandolo, dando la colpa ad altri, negando che la guerra sia una cosa inevitabile, no, era evitabile, anzi ne siamo noi la causa, anzi ne abbiamo noi colpa, perché il senso di colpa è qualcosa che noi conosciamo, qualcosa che comunque, per quanto doloroso, è un ambiente a cui siamo abituati. Quindi preferiamo darci la colpa di questa aggressione all'Ucraina in qualche modo, in qualche forma, o dare la colpa a qualcuno a cui siamo abituati a dare la colpa, piuttosto che affrontare la dura realtà e che è possibile che una nazione ti attacca per qualunque motivo, giusto, sbagliato, comunque ti attacca, ti bombarda e questo porta a fame, miseria, morte, distruzione, danni infiniti e necessità incredibili, e rifugiati. E questa cosa noi la dobbiamo guardare in faccia e smettere, come detto, di guardare sempre solo il nostro ombelico. Ditemi che cosa ne pensate. Vi saluto tutti. Ciao.